Un saluto a tutte e tutti voi che siete in ascolto su Radio Bequida Evangelica. Benvenuti e benvenuto a questo culto che ci unisce nonostante la distanza che ci separa. Siamo riuniti nel nome del Signore. Il nostro inizio e il nostro aiuto sono nel nome del Signore, che ha fatto il cielo e la terra. L'alleanza che Lui ha stabilito e la Sua lealtà durano per sempre e non rinuncia all'opera delle Sue mani. Vogliamo pregare. Signore, noi veniamo a Te con tutte le nostre ansie quotidiane e Ti chiediamo rinfrescaci con la Tua presenza, rinnovaci con la Tua energia e purificaci da tutto ciò che distorce la Tua immagine in noi. Facci rivivere l'alleanza che Tu hai stabilito con tutta l'umanità e tutto il creato. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. Vieni in mezzo a noi, Dio liberatore. La prima strofa dell'inno 148. Vogliamo ora cantare o ascoltare. Vieni in mezzo a noi, Dio liberatore. Ci raccogli in tutte il tuo grande amore. Non lasciarci più. Onde la tempesta, ogni giorno è festa. Se non mai sei tu. Vi invito ad ascoltare alcuni versetti del Salmo 111. Alleluia, gloria al Signore. Loderò il Signore con tutto il cuore nell'assemblea, in mezzo ai Suoi fedeli. Il Signore ha fatto cose grandi. Chi le apprezza, le medita con cura. Magnifiche e splendide sono le sue azioni. Eterna è la sua fedeltà. Non dimentica mai la sua promessa. È fedele e giusto. In tutte le sue opere, tutti i suoi ordini sono degni di fede. Restano immutabili per sempre. Sono dati con fedeltà e giustizia. Ha portato la libertà al suo popolo e ha stabilito con loro un'alleanza eterna. Rispettare la legge del Signore è l'inizio della sapienza. Mettere in pratica le sue leggi è frutto di intelligenza. La lode del Signore rimane per sempre. Amen. Leggo da Genesi 9, 8-17 Poi Dio parlò a Noè e con lui ai suoi figli, dicendo Quanto a me, ecco, stabilisco il mio patto con voi, con i vostri discendenti dopo di voi e con tutti gli esseri viventi che sono con voi, uccelli, bestiame e tutti gli animali che sono usciti dall'arca. Io stabilisco il mio patto con voi. Nessun essere vivente sarà più sterminato dalle acque del diluvio e non ci sarà più diluvio per distruggere la terra. Dio disse Ecco il segno del patto che io faccio tra me e voi e tutti gli esseri viventi che sono con voi per tutte le generazioni future. Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra. Avverrà che quando avrò raccolto delle nuvole al di sopra della terra l'arco apparirà nelle nuvole. Io mi ricorderò del patto tra me e voi e ogni essere vivente e le acque non diventeranno più un diluvio per distruggere ogni essere vivente. L'arco dunque sarà nelle nuvole e io lo guarderò per ricordarmi del patto perpetuo fra Dio e ogni essere vivente di qualunque specie che è sulla terra. Dio disse a Noè Questo è il segno del patto che io ho stabilito fra me e ogni essere vivente che è sulla terra. Ecco il diluvio è terminato una famiglia di ogni essere vivente è stato salvato può iniziare qualcosa di nuovo Ma qui, più che mai più ancora che nell'atto della creazione qui viene sottolineato che questo nuovo inizio scaturisce da una decisione di grazia di Dio Nulla è dovuto al creato che così tanto ha deluso il suo creatore ma il Signore stabilisce comunque la vita e la benedice perché possa diffondersi ripopolare tutto il mondo Un creato perfetto allora? Qualcuno ha imparato qualcosa da tutto questo disastro? Qualcuno si è pentito della malvacità? Il mondo da ora in poi riconosce che Dio è Dio e che non spetta all'essere umano di darsi delle arie? E tutt'altro L'unico cambiamento rispetto a prima del diluvio è affetto di Dio La sua solidarietà con le creature che lui stesso ha messo alla prova e che ne è uscita rafforzata Dio sa che l'essere umano non è cambiato In qualche modo sembra che si rassegni a questa condizione umana Infatti dice Io non maledirò più la terra a motivo dell'essere umano poiché il cuore dell'uomo concepisce disegni malvagi fin dall'adolescenza Non colpirò più ogni essere vivente come ho fatto e finché la terra durerà semina e raccolta freddo e caldo estate, inverno, giorno e notte non cesseranno mai E così stabilisce un patto Un patto con tutti coloro che lui ha salvato dal diluvio e attraverso loro estende il patto a tutti gli esseri viventi per tutte le generazioni future Quello che ha da dire in questo patto non è molto Lo ripete varie volte Due, tre, quattro Sette volte in questo testo appare la parola patto Di quel patto che Dio vuole stipulare o sta stipulando tra sé e gli esseri viventi tutti esseri viventi sulla terra Lo ripete così spesso che anche l'ultimo deve capire Deve capire qualunque cosa accada questa alleanza tiene Quando noi sentiamo la parola patto pensiamo a un'alleanza un contratto che viene stipulato da due contraenti da due parti che si promettono qualcosa oppure io ti do questo e tu mi dai in cambio qualcos'altro No Qui è diverso Qui si parla di un impegno esclusivamente da parte di Dio A Noè non viene chiesto nulla Noè e i suoi figli e tutta la loro discendenza non devono impegnarsi in nulla L'alleanza non è legato a nessuna condizione È una dichiarazione volontaria unilaterale da parte di Dio E per avere un segno tangibile di questa alleanza di questo patto così particolare Dio espone un segno Io pongo il mio arco nella nuvola e servirà di segno del patto fra me e la terra Così dirà L'arco tra le nuvole Noi pensiamo subito all'arcobaleno Solo questa parola in realtà non c'è Qui si parla semplicemente di un arco E allora un arco generalmente si riferisce si riferisce alla guerra a un combattimento a una difesa magari Infatti nell'antico mondo orientale l'arco nel cielo veniva visto come un simbolo bellico del potere divino con il quale combatte e sconfigge i disordini sulla terra Qui invece viene detto Dio appende il suo arco di guerra tra le nuvole Questo è un segno di disarmo una rinuncia alla violenza L'arco simboleggia che l'ira di Dio è terminata come un guerriero che abbassa l'arca e l'arco scusate e non combatte più E con ciò Dio promette mai più La distruzione della terra non partirà da lui Lui si attiene al patto anche se sa benissimo che questo patto è unilaterale Fratelli e sorelli io penso che è importante che teniamo un attimo d'occhio ciò che Dio ha promesso e ciò che non ha promesso Non ha promesso che d'ora in poi ci sarà una pace senza nuvole sulla terra Dio stesso aveva stabilito che anche dopo il diluvio il cuore umano è malvagio e l'impegno umano per il male possiamo dire è sempre eccessivo E così le persone continueranno a riccare danno a se stessi e ai loro simili e anche alla natura Il sospiro delle creature che Paolo descrive in modo così vivido non cesserà e anche questo continuerà ad esistere Sempre la natura si rivolterà contro di noi Spesso perché ne siamo responsabili Altre volte non sappiamo le ragioni per cui accadono i disastri Restiamo esseri in pericoli e il nostro mondo esposto al dolore fino all'ultimo giorno Ma è proprio perché rimaniamo esposto a molte cose terribili e causiamo noi stessi molte cose terribili che il messaggio del patto è così importante È importante perché questo patto dice Dio è fedele Rimane affidabile al nostro fianco soprattutto quando non sappiamo cosa fare quando la speranza minaccia di rompersi Nel nostro testo e lo trovo quasi curioso si dice due volte che Dio vuole pensare alla sua alleanza quando vede l'arco tra le nuvole Perché Lui non dice quando vedete voi l'arco allora vi ricorderete No lui dice quando io vedo l'arco tra le nuvole sembra quasi che Dio fosse smemorato come se dovesse fare un nodo al fazzoletto e dirassi ho promesso anche questo Io adoro i arcobaleni Io so benissimo che è il riflesso dei raggi del sole che splendono sulle gocce di pioggia ma questa consapevolezza del fenomeno scientifico che avviene non diminuisce la bellezza di un arcobaleno a me sembra una cosa stupenda meravigliosa un arcobaleno ci costringe di alzare lo sguardo di smettere un po' di ripensare al quotidiano a tutto ciò che ci accade e che noi causiamo e ci dà di nuovo un ampio respiro perché per scorgere veramente l'arcobaleno nella sua intierezza oltre all'alzare lo sguardo dobbiamo anche muoverci spostarci stare sopra le cose più in alto siamo meglio si può vedere tutto l'arco che si estende magari sopra la valle da sempre l'arcobaleno viene visto come un simbolo per la pace i suoi colori hanno simboleggiato tante bandiere per la non violenza per la pace per la tolleranza l'ultimo vi ricorderete che ancora da qualche parte si vedono erano i disegni dell'arcobaleno che accompagnavano la scritta andrà tutto bene che l'anno scorso quasi in questo periodo cominciavano ad apparire quando abbiamo iniziato a prendere conoscenza dell'epidemia del coronavirus che aveva invaso il nostro mondo e allora sono apparsi questi disegni che esprimevano questa speranza che tutto andrà bene noi speriamo ancora che andrà tutto bene anche se la pandemia stringe ancora nelle sue grinfie il mondo intero e sembra che abbiamo fatica o facciamo molta fatica ad uscirne l'arcobaleno come un simbolo della speranza come è stato il patto con Dio dopo il diluvio questo dona sollievo fa respirare un soffio di pace e di serenità e in questo momento dove veramente molte cose se non tutto sembra nero proprio un arcobaleno dona colore e aiuta ad aprirsi al futuro a guardare avanti a vivere quella speranza che si fonda su quel patto che Dio ha fatto con noi e con tutti gli esseri umani per sempre Amen Noi Vemessi I Grazie a tutti. 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 Amen. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Il Signore, e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.